A Tau Sicurezza nello stand di Allnet siamo con Riccardo Boccia, Channel Account Manager di ESET. La Cyber Security è oggi parola d'ordine come lei ha ben evidenziato durante il suo workshop. Qual è l'approccio che propone ESET alle aziende per far fronte alle nuove minacce informatiche? ESET è un'azienda leader nello sviluppo di soluzioni di endopoy protection e ha il compito di sviluppare soluzioni per proteggere i dati aziendali dalle minacce esterne che ultimamente sono evolute tantissimo quindi c'è bisogno di tecnologia all'avanguardia. Noi da oltre 30 anni sviluppiamo tecnologie di endopoy protection con l'obiettivo di proteggere il dato aziendale con un approccio che è multilivello nel senso dove ogni livello è una tecnologia che ha l'obiettivo di bloccare la minaccia prima, durante e anche dopo essere stata in contatto e entrata in contatto con la rete aziendale. ESET è un'azienda globale, fattura più di 500 milioni di euro nel mondo, è presente in più di 200 paesi ma soprattutto proteggiamo più di 500 mila clienti nel mondo e ha deciso di essere presente anche in Italia con una struttura di oltre 30 persone che hanno il compito di supportare il canale dei partner e dei clienti finali con un supporto tecnico che è proprio in Italia e in italiano e quindi è presente sia nella fase di pre vendita ma soprattutto di post vendita. La presenza di qui a Tau Sicurezza serve a ESET per trasferire valore, competenze, conoscenza ai nuovi partner che vogliono entrare in questo settore e allargare soprattutto le loro linee di business alla sicurezza software. Penso che oggi è stata una grande occasione per tutti noi sia per condividere esperienze ma soprattutto per fare del business insieme.